quando dico pen elegance cosa ti viene in mente se non estero eleganza tradizione originalità e raffinatezza tutto squisitamente molto british of course my darling welcome ovvero benvenuti nel salotto musicale del profumo del giorno ebbene sì oggi andremo ad approfondire la nostra conoscenza di uno dei brand più importanti al mondo nel settore dei profumi di nicchia che nasce in inghilterra nel diciannovesimo secolo e che oggi ha conosciuto ed amato universalmente in tutto il globo io sono sempre federica e sono qui per condividere con te la mia passione per i profumi di nicchia o artistici se ti piacciono i miei video mi raccomando iscriviti al profumo del giorno ed attiva le notifiche così non ti perderai nessuna delle prossime storie profumate la nostra storia di oggi inizia con il fondatore william harry penelago un umile barbiere della cornovaglia che intorno alla fine del 1860 si trasferì a londra per inaugurare un negozio da barbiere in jerryman street in questo quartiere londinese epicentro dell'eccellenza sartoriale vittoriana i gentleman dell'epoca amavano concedersi impeccabili abiti su misura e qualche vezzo estetico per soddisfare le esigenze della sua ricca clientela nel 1870 penali con incluse nella sua attività la vendita di eau de toilette gettando così le basi per quella che sarebbe diventata una delle più illustri maison di profumi nei momenti liberi dal lavoro william si dedicava a sperimentare originali misture di profumi essenze e pomate e fu così che due anni dopo nacque amman bouquet la prima fragranza creata per i raffinati abitué della man il bagno turco poco distante dal suo negozio il profumo pensate ancora oggi prodotto secondo la formula originale diventò così famoso da procurare a penali con nuove commissioni da parte dell'aristocrazia inglese la sua fama giunse anche alle orecchie della famiglia reale che lo volle come barbiere profumiere ufficiale della corte e si narra addirittura che una volta tagliò la barba anche allo chat di persia nel 1902 walter il figlio del fondatore ereditò l'attività paterna e lanciò il profumo destinato a diventare la fragranza simbolo della maison blenheim bouquet ideato per il duca di marlborough e così chiamato in onore di blenheim palace la maestosa residenza nell'oxford shire dove il duca era nato la fragranza caratterizzata da note di testa agrumate e aromatiche mescolate a note di fondo speziate finì per conquistare anche un diretto discendente del marlborough sir western churchill un altro tra i più grandi estimatori di questo profumo nel tempo fu anche il nostro avvocato agnelli se ve lo ricordate il grandissimo a consagrare il prestigio dei profumi pen elegans furono i riconoscimenti ottenuti dalla casa reale la regina alexandra nel 1903 assegnò alla maison nella prima patente reale ovvero il primo attestato di qualità i profumi venivano venduti regolarmente dal negozio originale di german street fino a quando quest'ultimo purtroppo non venne distrutto durante il bombardamento del 1941 il negozio scomparve ma le fragranze dell'azienda rimasero in vita seguì nel 1956 il secondo mandato reale ricevuto dal duca di edimburgo e nel 1988 il terzo concesso dal principe di gallo negli anni la storia della maison si intrecciò anche con quella di personaggi illustri ad esempio uno dei proprietari del brand fu il regista franco zeffirelli appassionatissimo di profumi pen elegans che insieme alla sua assistente acquistò nel 1970 la società ed allargò la produzione includendo la linea femminile ma anche fragranze per la casa articoli da barba ed accessori da viaggio nel 1975 venne aperto un nuovo flagship store a covent garden che rappresentò anche una vera e proprio nuova direzione per l'azienda con il recupero delle vecchie formule composte da william e nuovi profumi floreali pensati per attirare una clientela femminile e moderna da più di 150 anni ormai pen elegans è considerato uno dei brand più esclusivi nel panorama dell'alta profumeria interprete audace del tipico stile british nonché della più ricercata eleganza il segreto è la straordinaria eredità che si tramanda intatta da generazioni anche dopo la cessione del controllo da parte della famiglia il brand è rimasto comunque fedele ai metodi tradizionali di produzione le ricette alla base delle fragranze prodotte esclusivamente in inghilterra sono ancora ispirate a quelle del fondatore e restano caratterizzate dall'attenta scelta di ingredienti rari e preziosi oggi pen elegans offre anche una linea di prodotti per il bagno la cura del corpo e accessori di lusso per la rasatura a complemento delle sue fragranze principalmente i profumi di pen elegans sono raggruppati in tre collezioni trade routes che si ispira ad un'epoca di grandi viaggi ed avventure e racchiude una vasta gamma di materie prime esotiche arrivate sulle banchine del porto di londra alla fine del diciannovesimo secolo all'epoca londra era conosciuta come il magazzino del mondo infatti i suoi moli stracolmi esibivano opulenza e magia con fragranti purpurri tè spezie sete perle room e tutto 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 racchiuso nelle stive delle navi mercantili che appunto approdavano a londra la seconda è la british tales un elegante sofisticata collezione di fragranze che evocano le storie e i personaggi della letteratura britannica ogni profumo ha un aroma unico ed accattivante che si ispira ad un particolare racconto britannico infine ci sono i profumi della collezione portraits dove le fragranze sono un vero e proprio tributo allo spirito inglese tra eccentricità humor e provocazione portraits ruota intorno alla famiglia di lord george e i profumi prendono il nome appunto dai membri della sua famiglia lord george sua moglie lady blanche il duca il loro cognato e la loro figlia la duchessa rose eccetera eccetera le fragranze sono dei ritratti olfattivi dei personaggi e ogni profumo intriso di determinate caratteristiche e queste fragranze di questa linea in particolare sono racchiuse in bottiglie elaborate massicce e lussuose e tutte quante sono adornate da un tappo placcato in oro che rappresenta ciascuno la testa di un animale differente associata ad una personalità ben affermata detto ciò penso sia evidente che l'argomento pen elegans non si possa assolutamente esaurire una sola volta ma visto che tra le mani ho l'ultimissimo profumo lanciato sul mercato direi di iniziare proprio da lui e poi vediamo cosa succede durante il percorso ma prima vorrei farvi vedere il video ufficiale della presentazione di solaris perché è molto carino grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Il sostizio d'estate è molto vicino e in tutto il mondo, in tutte le culture, l'alba del giorno più lungo dell'anno porta con sé ogni sorta di celebrazione mistica. Molti credono che il sole, chiamatelo Apollo, chiamatelo Amonra, Sol o anche Solaris, sia all'apice della sua potenza in questo giorno e hanno ideato ogni sorta di rituale per festeggiarlo. Dalle pratiche pagane celebrate a Stonehenge al sorgere del sole, alla festa di Midsommar in Svezia, alle nostre tradizioni legate alla raccolta delle erbe nel giorno di San Giovanni. Insomma, il folklore prende vita in questa data particolare e cosa meglio di un profumo può accompagnarci in tale occasioni un po' magiche? Certo, poi un profumo che si chiama Solaris sembra proprio il più adatto all'occasione, almeno finché non giunge il tramonto quando arriva il momento di accendere il fuoco e sorge la luna. Ma andiamo per ordine. Solaris fa parte della collezione British Tales e oltre che nel nome si vede chiaramente anche dalla presentazione che il sole è proprio il protagonista assoluto di questa fragranza. Nasce sulla pelle con note di ribes nero, neroli e limone, frizzanti proprio come un'alba. E queste note fresche e succose si mantengono brillanti e vivaci molto a lungo. Il limone è morbido e delicato senza essere troppo citrico o spicoloso. Quando le note di testa lasciano il posto a quelle del cuore, Solaris si trasforma rapidamente in un profumo floreale bianco perché iniziano a sbocciare i Langhi Lang e Gelsomino che insieme al fiore di tiaree diventano predominanti. Mentre il ribes passa un po' in secondo piano. E questo accade molto velocemente dall'apertura. Questo bellissimo accordo cremoso è tanto femminile e delicato. E dà proprio una sorta di sensazione di benessere, di calda e confortante luminosità. Le note finali poi di cedro, sandalo e vaniglia che si sprigionano dalla pelle amplificano questa sensazione di benessere e prolungano la persistenza della fragranza per diverse ore apportando al tutto una sfumatura molto setosa. Certo, Solaris non ha un DNA particolarmente innovativo, non è uno di quei profumi che non abbiamo mai sentito prima però a suo modo ha anche delle caratteristiche peculiari che lo distinguono nel mare magnum delle fragranze estive, agrumate e floreali. A partire dall'apertura che io trovo davvero delicata ma anche luminosissima e che sorprendentemente non sparisce nel nulla dopo poco come succede a volte nelle fragranze basate su note agrumate. Anzi, vi dirò che questa fragranza in effetti mi ha proprio stupito piacevolmente per la sua persistenza che è andata molto oltre le mie aspettative. Inoltre l'unione dei fiori bianchi e gialli del cuore è davvero fatta d'opera d'arte in quanto sono miscelati in modo da risultare presenti ma senza infastidire. soprattutto mi riferisco al gelsomino che a volte a me ha causato anche mal di testa mentre in solaris è davvero super delicato e smussatissimo anche se si percepisce senza ombra di dubbio che lui c'è insomma. La nota vanigliata è quella che si percepisce in misura minore perlomeno a me succede così. Questa però con caratteristica secondo me lo rende perfetto proprio come profumo per la primavera estate perché non viene spento da una vaniglia troppo dark o opprimente ma quest'ultima fa semplicemente per così dire da sfondo ai fiori e alle note frizzanti dell'apertura. Insomma, in totale secondo me Solaris si merita un bel 8,5 ma anche nel giorno più lungo dell'anno ad un certo punto scende la sera i festeggiamenti continuano, si accendono fuochi appunto mentre il sole tramonta e sorge lei, Luna la Luna, o meglio la Dea della Luna, è la protagonista immaginaria di un altro profumo penale che se vogliamo può essere direttamente collegato a Solaris nella mia mente proprio come in natura la luce della Luna è un naturale proseguimento di quella solare io purtroppo ho soltanto il campioncino dico purtroppo, poi vi spiego perché anche Luna apre con delle freschissime note agrumate limone, bergamotto ed arancio amaro così frizzanti e luminose che in qualche modo riescono subito a metterti di buon umore ma la mancanza del Neroli rispetto a Solaris dà già una sfumatura molto diversa a questa apertura la rende più delicata, più cristallina quasi più innocente e poi quando andiamo più in profondità veniamo letteralmente avvolti da un morbido cuore floreale di rosa il gelzomino dove io personalmente sento molto di più la rosa sì, una rosa delicata, una rosa pallida piuttosto verdeggiante magari ancora un po' immatura forse più un bocciolo che una rosa vera e propria senza velature di ombra senza velature ombrose è una rosa che innalza la fragranza non solo come un profumo fresco e pulito ma lo rende piuttosto chic ed elegante nella sua delicata possenza inoltre nel cuore c'è anche la bacca di Ginepro che dà un po' di mordente a questo profumo intensificandone anche l'aspetto aromatico il che lo rende leggermente asciutto impedendone la sua scivolata verso una dolcezza eccessiva la base è ricca di ambra grigia e di balsamo diabete che non so come ma sembra quasi che siano in grado questi due ingredienti di apportare una sfumatura metallica al tutto così da farti pensare a bagliori luminosi ma freddi del disco argentato della luna e questo accordo dura molto molto di più di quanto ci si potrebbe aspettare da uno de toilette o almeno così è stato per me anche qui insomma io in effetti lo avevo un po' snobbato questo campioncino perché ce l'ho da un bel po' perché non esiste la versione eau de parfum e quindi nonostante mi fosse piaciuto subito il profumo appena appunto lo provai lo scorso anno non ero sicura che sarebbe stato un buon acquisto ecco per questo motivo e quindi era un po' finito diciamo così nel dimenticatoio ora invece che l'ho ripreso per farmi una sorta di proseguimento ideale di solaris per questo video mi sono resa conto che non è così male come pensavo in termini proprio di prestazioni e mi è venuta voglia di prenderlo perché in effetti oltre a piacermi come fragranza lo trovo un profumo molto molto confortevole un po' introspettivo magari uno di quei profumi con cui cuccolarsi prima di andare a dormire ecco la wishlist è sempre in positivo la mia mai in negativo se dovessi descrivere la mia wishlist con un unico aggettivo la definirei spudorata comunque wishlist a parte concludo ringraziatevi per l'ascolto e vi dico se potete andate a sentire solaris perché un profumo carino potrebbe piacervi e visto che ci siete sentite anche l'una se non lo conoscete bene vi do il mio grande bacio profumato oggi H24 giorno o notte più che mai profumato a presto ci vediamo al prossimo video e grazie ancora ciao ragazzi